Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo di Dio si è fatto uomo. E venia ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Invonti in noi la tua grazia, Signore. Per l'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio. Per la sua passione morte concedi a noi di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi preghiamo i misteri del dolore. Ci portiamo con la mente e soprattutto con il cuore sotto la croce insieme a Maria. E a lei chiediamo di aiutarci a comprendere il mistero dell'amore grande di Dio, che offre la sua vita per noi uomini e per la nostra salvezza. Nel primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto, in preda all'angoscia Gesù pregava. Prega il Padre, se è possibile, di liberarlo da questa sofferenza. Prega gli Apostoli di vegliare e di pregare con Lui. Solo nella preghiera è possibile vincere ogni tentazione. Solo nella preghiera è possibile riportare la vittoria, anche sulla morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore, Gesù, riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli iscrivi, ora è giudicato, è condannato, è flagellato. Vergine addolorata, fa che tutti coloro che soffrono ingiustamente, o che si trovano in qualsiasi genere di sofferenza, possano trovare speranza, possano trovare conforto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso, Gesù è coronato di spine, ed è riso, schernito. Ma quante volte anche noi ci poniamo dalla parte di chi deride il fratello, specie se fragile e debole. Chiediamo al Signore, per la mediazione della nostra Mamma Celeste, di aiutarci ad essere più attenti e rispettosi verso i fratelli specialmente fragili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, parte in cielo tutte le ane, specialmente le più bisognose della tua miseria. Nel quarto mistero del dolore, Gesù caricato della croce, si avvia verso il Calvario. Leggiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, Accettando nella sua volontà umana, che sia fatta la volontà del Padre, Gesù accetta la sua morte, in quanto Redentrice, per portare i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. Grazie, oh Gesù, per tanto amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore, Gesù è crocifisso e muore in croce. Prima di morire, Donna, ecco tuo figlio. Disse al discepolo, poi ecco tua madre. San Giovanni Paolo II ha così commentato questo evento. Gesù vuole che l'amore materno di Maria abbracci tutti coloro per i quali egli dà la vita. O Maria, abbraccia tutti i tuoi figli. Nessuno si senta dimenticato o escluso, soprattutto di quanti soffrono e muoiono per indifferenza, povertà, ingiustizia, violenza, guerra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla mano. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto. del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Preghiamo per Papa Francesco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. Con Papa Francesco rivolgiamo la nostra preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio. E difendici da ogni male. Amen. Salve, o Regina. Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi Gesù i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Forso dunque, Avvocata nostra, vi volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Signore pietà, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi. Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre di Cristo prega per noi. Madre della Chiesa prega per noi, Madre della misericordia prega per noi. Madre della divina grazia prega per noi, Madre della speranza prega per noi. Madre purissima prega per noi, Madre castissima prega per noi. Madre sempre Vergine prega per noi, Madre immacolata prega per noi. Madre degna d'amore prega per noi, Madre ammirabile prega per noi. Madre del buon consiglio prega per noi, Madre del creatore. Prega per noi, Madre di misericordia prega per noi, Madre di misericordia prega per noi. Vergine prudentissima prega per noi, Vergine degna di onore prega per noi. Vergine degna di lode prega per noi, Vergine potente prega per noi, Vergine clemente prega per noi. Vergine fedele prega per noi, specchio della santità divina prega per noi. Sede della sapienza prega per noi, causa della nostra letizia prega per noi. Tempio dello Spirito Santo prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi, Rosa mistica prega per noi. Torre di Davide prega per noi, Torre d'Avorio prega per noi, Casa d'oro prega per noi. Arca dell'Alleanza prega per noi, Arca dell'Alleanza prega per noi, Porta del cielo prega per noi. Stella del mattino prega per noi, Salute degli infermi prega per noi, Rifugio dei peccatori prega per noi. Conforto dei migranti prega per noi, Consolatrice degli afflitti prega per noi, Aiuto dei cristiani prega per noi. Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina degli apostoli prega per noi, Regina dei martiri prega per noi. Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina di tutti i santi prega per noi. Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi. Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi, Regina degli angeli prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbia in pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore. Andiamo in pace. Prendiamo grazie a Dio. Prendiamo grazie a Dio. A Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie. Grazie.